One2go.co ti porta a destinazione con un semplice clic sul tuo smartphone, prenotandoti i biglietti dell'autobus per la tua futura destinazione, trovandoti il meglio tra i viaggi in treno, vecchia scuola, con panorami e viste spettacolari. One2go ti offre svariati mezzi di trasporto per portarti in qualunque posto desideri, sia locale che internazionale. Ti aiuteremo anche a trovare un volo regionale o ti prenoteremo addirittura il traghetto per una fuga su un'isola paradisiaca. Prenota i tuoi biglietti velocemente e facilmente con il tuo smartphone. Paga con carte, PayPal o metodi di pagamento locale. Visita One2go.co e inizia subito la tua nuova avventura.